Ciao a tutti ragazzi, bentornati su PruizTV con Portal 2! E oggi siamo alla parte 7 di questo fantastico Lesplay in compagnia con Isaac30 Da notare la scritta disastri evitati lì, iniziamo bene Dicevo con Isaac30 che ricordo che prima o poi morirà Bene, detto questo, oggi sarà una parte abbastanza interessante Poiché dovremmo cercare di completare l'intero mondo, giusto Isaac? Sì, l'intero mondo L'intero mondo senza mai morire E questo è bufo perché appena hai detto che morirò Esatto, quindi non faremo mai questo achievement Però noi ci proviamo lo stesso perché siamo Siamo dei maniaci Degli achievement Siamo giocatori E quindi ci proviamo lo stesso Ma io sono già sicuro che non lo faremo Per due punti, uno per la mia stupidità e il secondo per la mia vendetta Tutto dipende da me Te l'ha già detto dietro le quinte, non vendicarti No, davvero ho promesso Isaac che in questa parte non mi vendicherò Però la mia stupidità non l'ho promesso che non ci sarà È già una vendetta abbastanza severa la tua stupidità Non credo, sai Non basta Oddio, forse era anche un'offesa No, no, non l'ho presa come offesa Tanto Isaac pagherai il tempo debito Guarda, guarda, uno, uno, uno Eccolo qua, iniziamo Allora, cosa è questo? Tunnel di energia Volo Dai, dove ti devo, dove ti devo un po' dentro il portale Allora, aspetta, inizia a non cadere, eh Inizia a non cadere, Fruiz Allora, facciamo così, Fruiz Se salti dentro il coso Qua Salta dentro No, se entra dentro, sì E ora Vermo, allora metti un portale lì E uno Sopra, 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 no, 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 no Sopra là Ok Ora, aspetta Premi il bottone, ci dovrebbe Vediamo cosa succede quando premi il bottone e non fare niente Ci dovremmo spiaccicare Questo è vero, ma Fermo Ok, non scendere Scendo io E poi scendita Aspetta Aspetta Posso scendere? No Aspetta Allora, che portale ho usato il rosso? Ora scendi Premi due volte Q Premi Q Q, 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 Q Q a manetta, manetta, Q a manetta, Q a manetta Q a manetta, Q a manetta, Q a manetta, Q a manetta Ok, questa è, questa è Dove pensavo veramente fosse così stupido? Comunque vieni dentro il portale No, scusa, sei incastrato lui Ma sei incastrato, basta premere un attimo giù e vedi che va giù Vabbè, possiamo sempre ricominciare il mondo, dai, tanto siamo all'inizio Vuoi ricominciarlo? Premi un attimo giù, giù O abbassati anche, non so Vuoi veramente ricominciare, Pruiz? Sì, dai, tanto siamo No, non l'importare a portare, lascia Ciao Sì, dai, ricominciamo Ricominciamo, andiamo al nodo centrale Ok Dai, cominciamo bene Con gli Epic Beh, io sa che cazzo non so chi si incastrava di Basta abbassarsi, Pruiz? C'è il pulsante con Se sinceramente non stavo neanche guardando lo schermo C'è il bello che ho visto Pruiz scendere e sprofondare nel tunnel blu E' da scese, è morto Vabbè, no, se seriamente Adesso mi concentro Vai, 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 concentrato Così ti voglio, Pruiz No, ma il bello, ragazzi, che allora i suoi Mi spiega questo attivamento già da ieri, no? E la cosa bella è che tipo prima Siamo arrivati in questa stanza principale Io sono caduto subito da V2 secondi Se devo registrare la parte Comunque, come premessa di quanto sarà facile fare questo attivamento Premessa, premessa C'è la faremo un giorno Un giorno tra cento anni Ma non oggi Non oggi A questa ultima volta che ricominciamo Se poi succede un'altra volta, pazienza Perfetto L'ultima volta, la prima e l'ultima La prima e l'ultima volta No, perché sapete Siamo un po' quei tempi Proprio alla gora, no? Cioè, perfetto Io avrei anche un po' di tempo, ma Eh, io no, invece Come al solito 3.000 cose da fare, quindi Vabbè, comunque, prezzo Andiamo Odiamo, vediamo, vediamo Una domanda Preferisci i punti di luce O questi Cosi di energia? Questi cose Perché se arrivi in fondo Se non sbaglio Rimani comunque E' sospeso Ok, adesso Mi raccomando Adesso Fermo un attimo Ok, adesso io vado giù Tu non fare niente E io vado Però guarda quanti trappani Da sotto ci sono Ok Qua, abbassati Con control Non scendere Se passa No, occhi Bravo Per un attimo Pensavo che saresti ricaduto No, no Comunque ti è data La cimenta Quella là Del volo Sì, quello l'ho preso Bene, bene Ciao Perché non andiamo avanti C'è il grado Scherciato a dire A tre righe Hai mai pensato Di l'Ado Tutto sto tempo Potesse leggere Tutti i prevedi E quindi Eh, sì, è infatti Secondo me però Legge libri Cioè, ci legge libri Noi crediamo che sia lei A parlare Ma in realtà Sta leggendo un libro Ad alta voce Quindi lo legge anche noi Cioè Secondo me Cioè E torniamo alla prossima mutata Con le teorie di Isaac Prossima settimana Arrivederci Settimana Con le teorie di Isaac Arrivederci a tutti E ora è per volare I dammi di Isaac Di prima Dai Isaac Dai, oh, 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 mi raccomando Non andare in questa cosa Non andarci Non andarci Se no muore all'istante Perché Va finire in acqua Sì, quella va finire in acqua Ok Allora, vediamo un po' Cosa c'è qui Oh Voglio un senso Sono volato da te Guarda, c'è ancora il pulsante premuto Allora Vediamo un po' Fammi pensare Fammi pensare Te riesci ad andare in qualche modo Aspetta, ci sono, ci sono Ora puoi saltare sulla Sulla pedana Vai sulla pedana Buon volo, Pruiz Ti aspettiamo tutti sulla luna Un piccolo passo per il robot Un grande passo per i robotizzati Yeeeh Ok Ok, ok, ok Ora da lì Vedi quel bottone? Premilo Cosa fa? Una palla Premilo ancora Ancora? Premilo ancora, sì Ah, me l'ha data a me la palla Oddio, si è vaporizzata Ok Ok, adesso scendi giù Scendi giù, Pruiz Scendi giù Ok Mi chiedo cosa facesse questa cosa qua Oppure di finire un altro buco Comunque Ok, ora Metti un portale lì dove c'è la pallina E uno qui dietro Wow Iiii Yep Andiamo E ce l'abbiamo fatta Senza morire Senza morire Ma questo è il secondo su otto Su nove, scusa Ah, su nove Accidenti Sono di più, eh Ciao Pruiz Ora come come sparare 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 A casa Avocado Non era quella di chimica Avocado Sì è vero Eh Cosa c'entra qua su portal Non c'è niente di chimica A parte L'acqua velenosa E' tossica E' tossica Allo c'è detto E' tossica Peccato L'acqua con degli elementi Civilizzati in Half-Life E' vieni E' vieni E' vieni E' vieni E' vieni E' in questo gioco Non puoi toccarla Non posso Beh, ora che ci pensi Neanche su Global Offensive Ma Non puoi Anni di poi Non puoi andar sott'acqua Oh Cosa sta succedendo? Oh Guarda qua sotto Pruiz Cosa sta succedendo? Sta trasportando una camera Di test Meglio se non cadi Pruiz Perché potrebbe essere dannoso Cosa ci sarà? Ah, ho capito Non possiamo toccare quella roba là Però vediamo Non possiamo fare Ah, si Aia Ecco, un'altra di quei cose Pruiz Di che odiamo GLaDOS Ti odiamo GLaDOS Odiamo, odio GLaDOS Allora, vediamo Ci sono Guarda Pruiz Vedi quel raggio bello bello La 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 Quel raggio bello bello La 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 Ecco Perfetto, perfetto Questa è un'ottima idea Grande Pruiz Aspetta, aspetta Fammi pensare Aspetta, what? Eh, devo aspettare io O devi aspettare te Ah, FK Pruiz o FK Intanto io ragiono Allora, vediamo Allora Allora, eccomi Allora 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 Guarda Pruiz Intanto metti un portale lì E uno lì sotto Lì sotto Lì sotto C'è un'altra Roba La Eh, la Sì No È lì Metti l'altro Sì E adesso sali sopra quel tunnel di energia Ma non buttarti giù Sali soltanto sopra quel tunnel di energia Ok, ok Ora Ora Appena arrivi in cima Spara il portale azzurro Lì Ok Ok, ci siamo E ora Vedi quel cubo Lo devi passare sotto Aspetta, aspetta, aspetta Ora Butta quel cubo giù E io lo vado a prendere Come un cagnolo No, perché ti sei buttato giù Pruizzo, non sei un cubo Sei un damnato Robo Porca miseria Non è giusto che ti butti giù Ok, adesso dobbiamo rifare tutto quanto Metti il portale lì Lì sopra Sì, sì Rissali sopra l'opera Scusami, isate L'emozione L'emozione, sì E butta l'altro portale lì Lì Ok, fin qui ci siamo, ok? Vai lì e non cadere Va bene, Pruizzo Anzi, stai fermo Stai fermo Ci penso io Ok Ora Ora io faccio il resto Ok, vado a posizionare sto cubo E in questo modo mi salverò Salverò Salve Ah, giusto Pruizzo Devi fare qualcosa anche te, mi pare Ora Vediamo Secondo me, Isaac Devo mettere i portali là dove hai messo tu prima Aspetta, no, il problema è questo Pruizzo Che Dobbiamo fare una cosa sincronizzata Altrimenti io muoio Appena Facciamo così, guarda Pruizzo Appena te lo dico io Tu piazza il portale viola Viola non essere dal tonico proprio in questo momento Qui va bene Appena te lo dico io Appena te lo dico io Allora C'è quello rosso, giusto? Sì, dove c'è quello rosso Va bene 3, 2, 1, vai Ok, ci siamo Olè, ciao Pruizzo Ci siamo riusciti Perché, perché No ma Ormai si sa, si sa Se io vado nel tuo Però se te vai lì Se te vai lì Nel mio Ascolta, mi Secondo me sai cosa stiamo facendo Cosa? Se me è Grados in realtà ci sta preparando per una grande cosa Cosa c'è? Te lo faccio vedere di qua No, 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 no Io ci scommetto mille euro che Ok, non volevo farlo ma questa è una sfida Non è una sfida, Pruizzo Però io te l'ho detto Se tu vieni nella mia camera di assemblaggio Io non Ti ho salutato, ho visto? Sì, dentro il corpo Era una sfida di saluti Se tu che prendi le cose male Sì, Pruizzo, ma Se io vado nella tua camera di assemblaggio Tu mi togli il corpo Se tu vai nella mia Io non ti tolgo il corpo Cento per cento sicuro Io sono molto più buono di te Di te Di te Di te E di caffè Lol Allora, quanti ce ne mancano da fare di test, Isaac? Ce ne mancano ancora sette Madonna Sono lunghetti Ah no, di meno, ne mancano i cinque Ahaha Ok, guarda 4 Questo sembra pericoloso, Pruizzo È pericoloso Sono tutti pericolosi Fammi vedere se riesco a trovare una sferma, Pruizzo Vediamo se riesco a trovare una soluzione Cazzo, è profondissimo Sì Un po' come tutto porta Vediamo Tremu, mi sono con paura Ne Mi aspetta un attimo, Pruizzo Ci deve essere una tecnica segreta Ne Ok Ok Rischiato brutto Sì, sì, tanto brutto Allora, vediamo cosa dobbiamo fare Dobbiamo salire là sopra Giusto Lassopra Pruizzo, sali sulla pedana Questa? Sì, sì Vai, 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 sì, so quale pedana Ok, lì non ci sia arrivato Vediamo cosa si fa tornando indietro Ok, ho capito Vediamo se riesco a fare una roba del genere Fermo, Pruizzo, mi farei morire un giorno Ok, ci sono Adesso faccio il salto all'indietro Sono tutte emozioni che Pruizzo non potrà mai provare Lol Tu basta che ci fai vincere, poi vuoi il resto Ah, mi sono incastrato Dai, cosa bisogna fare Eh, sinceramente Non lo so Però sto prendendo la easy way Ovvero Quella di Easy way Optane 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 Ok, arrivo pure io No, aspetta, Pruizzo, non farlo Ho bisogno Eh, mettite Mettite un portale No, guarda cosa vede io, Pruizzo Vedo un Un pulsante che manda i cubi Riesci a cacciarli in qualche modo Aspetta, vediamo Guarda, hai visto dove cadono i cubi Dove cadono? Dove cadono? Guarda Nel vuoto cadono Eh, lo so, infatti è per questo che devo trovare un modo per buttarci che ne so Un raggio traente Super efficace Vediamo Posso giocare con questo raggio? Quale raggio? Quello che stavi prendendo te No Perché è mio Uffa, come se cattivo Sono cattivo, sì Aspetta, vediamo cosa succede se faccio così Che bella Già No, allora Allora, allora, allora Il cubo cade lì, giusto? Proviamo così, guarda Eh, eccolo là, lo sapevo Tu non senti niente, ok Non sento niente Questo è il tipo di tombale, tra chi mi rompe i coglioni Stavolta, stavolta non rispondo Basta No, rispondiamo e sentiamo la suoneria No, stai zitto, stupido telefono Ok, Pritz, adesso sali sulla pedana, dovresti riuscirci adesso salendo sulla pedana Ok, salgo sulla pedana Vai Vai, Pritz Dovresti cadere nel raggio Trent Ok, stai fermo lì Adesso lì passa il cubo E il cubo lo devi portare da me in qualche modo Sì Ok, sei sopra? Fermo Ok, vai giù Ok, prendi il cubo E salta sulla pedana Vediamo se riesci a passarmelo da qui Vai, salta, salta E tieni il cubo, eh Passamelo adesso appena siamo vicini, ok? Vediamo se riesci Passa, passa il cubo Passa il cubo Passa il cubo Ok, no, aspetta Provo a fare qualcosa di più facile Fermo, Pritz Passa il cubo 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 Sì, ma io ne sono Nola dellaia Però Alla dellaia Adesso ti faccia venire da me a Pritz Se riesco Adesso mi volare Ricordati che se io crepo Crepe anche te Come ne vado via Me ne vado via Non vai via Sto volando, sto volando Non stai volando a Pritz È solo un sogno Fermo, Pritz Fermo, fermo Adesso ti faccio venire da me La velocità della luce No No Sì, sto andando via Sì, sto andando via Vabbiamo 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 bene Ti prego No, sei caduto Allora, lascia stare a Pritz Adesso provo a mettere Il dorado Dorado Scusi Allora Lì c'è il rosso E il rosso lo devo piazzare lì Spero che qui non ci sia una parete E c'è una parete Vaffan Vabbè Allora, petta Vieni con me Vieni con me a Pritz E' un attimo Pedano, pedano 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 Ok Eccomi Ora cosa dobbiamo fare Ora Dei mettere il portale viola qui Appena passi Vai ora Ok, ci siamo Tessa è salvo Fermo, Pritz adesso Ora devo venire da te In qualche modo Verbi modali Vi odio No, non posso venire da te Aspetta, allora Pritz Metti l'altro portale Qui Il viola, il viola, il viola Mi raccomando, il viola Il viola Lì Lì Sì, lì Il viola Ok E ora te Sai dove io dovrei mettere il laser Riesci a piazzarmi un portale Dove vedi quella parete bianca Aspetta Aspetta FK un'altra volta Parca miseria Pritz Allora XD cosa c'è da XDare Ah ecco ci sono Pritz Vengo da te tra un attimo Ok, ecco, ecco, ecco fatto Grandissimo Non togliere il portale Adesso dovremmo riuscire a farcela Basta che Nananana Guarda, ti saluto, Ida Ciao Arrivederci Ok, ci siamo E vai, ce l'abbiamo fatta Visto Pritz Sono un genio Sono un genio Sono Eccolo qua L'ultima animazione Che ti manca Provene L'ultima animazione Che ti manca Aspetta che lo faccio subito Faccio tutte le mie emozioni Vai Vediamo Pritz Che si esibisce Nel multinielo I don't care I don't care Grazie Proprio mi mancavo Gesticolotto Eccolo qua, bene Bene, bene Gesticolotto 8-bit come Pritz No, Pritz è 64 Proprio C'è il sistema operativo a 64-bit No, 32 No, no, sì, 64 Allora, Pritz non serve Che li fai tutti Li ha già fatti Ti ha dato la Ah, volevo rifarlo Era simpatico Era simpatico Simpatico No, non posso farlo Comunque Pritz Siamo a metà Pritz Siamo a metà Ce la possiamo fare Ok, non siamo ancora morti Non siamo ancora morti Dai, ce la possiamo fare Adesso Prossimamente supporto al 2 Lamerotanti Crilly che esplodono E' un sacco Un sacco Un sacco Di crash Quelli che ci hanno ucciso Due volte Sui primi 5 test Che mi hanno ucciso Due volte Tutta colpa tua Pritz Oh, di aspetto Sono quelle specifiche Toforme che ci schiacciano Sì Aiuto Credo che ci vedremo Alla prossima Però siamo già a metà E dura un bel po' Il video Comunque Pritz Ok, salutiamo Ci vediamo alla prossima Ciao Aspetta Da Pritz Ti vuoi tutto Ciao 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 Ciao